L'inverno verso Natale a casa arrivavano Consuelo, Roberto e Natascia, tu eri la loro maestra. Oltre all'allegria e al risotto di zucca che cucinavi solo quando c'erano loro, arrivavano anche i pidocchi, che visitavano anche i miei capelli. Tu e loro mi avete insegnato ad accompagnare anche i momenti bui della vita con allegria. Tu mi dicevi che quando una cosa ci è trista dobbiamo guardarla in un'altra prospettiva ed è fatta così. Ciao Anna Maria, sono Giovanna. Questa sera vi mando il suono della montagna. Sentite che bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao Anna Maria, ciao Marcella. Sono sempre Francesca, la figlia di Gianni Sofri. Dato che sono piaciuti gli uccelli dell'altra volta, ne ho degli altri. Dato che sono piaciuti gli uccelli dell'altra volta, ne ho 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 gli uccelli dell'altra volta. Grazie a tutti